Allora, che ne pensi? È diverso, non credi? Di che parli? Arrivare sulla scena del crimine da coppia sposata, come Lick e Nora Charles. Oh, o come Macmillan e signora. Cuore batticuore. Turner e Hutch? Ma quei due non erano sposati. Sì, ma tu mi ricordi sempre un po' Hutch.